Benvenuti nella rubrica Un Hitchcock al Mese, dove iniziamo brevemente un film scelto del maestro del brivido e non. Il film di oggi è Marni. Cominciamo. Film di Alfred Hitchcock con Tippi Hidren, Sean Connery e Diane Becker del 1964. Marni è una creptomane che cambia nome e aspetto per nascondere le tracce legate ai suoi crigni. Un incontro cambierà la sua vita. Un dramma d'amore è baratriller psicologico. Girato però come se fosse un thriller d'azione, con tanto di imprevisti e situazioni che rompono la conseguenzialità e la realizzazione degli obiettivi della protagonista, che quindi non avvengono nell'ordine e nel modo corretto, scardinandosi a vicenda in una imprevedibilità che mette ansia, perché potrebbero drammaticamente, quest'ultimi, condizionare la vicenda. Quindi Hitchcock gira il tutto ricordando i suoi film di spionaggio più celebri, in quanto a gestione della suspense e degli accadimenti. Ma come già detto, si tratta di un dramma sentimentale e psicologico, e ciò significa che tutto quello detto prima proviene dal sumconscio della fragile e disturbata protagonista. Lei stessa, per rimuovere un trauma, si crea una scremmata di falsi eventi, che però riemergono sotto forma di colori, suoni, dettagli. Diventa così il film un'interessante discesa nell'abisso della mente umana, trattata con cura, nel tirare in ballo teorie ufridiane, che prontamente Hitchcock è super preparato a ironizzare sopra di esse, nonostante si serva di loro nel esplosivo e stupendo finale. Nel fare questo si ricorda il regista di dover intrattenere con suspense il pubblico, e così i già citati oggetti, suoni e colori, che riportano il personaggio principale alla sua traumatica infanzia, diventano strumenti per spaventare, terrorizzare, sia lo spettatore, sia lo protagonista. E lo fanno con un classico sistema Hitchcockiano di mettere paura, che consiste nel mostrare il protagonista come l'unico personaggio a conoscenza dei veri fatti, e così come lui anche il pubblico. Questo porta gli altri personaggi ad agire inconsciamente, creando una rete di situazioni dove vi è impossibile uscire fuori. Quindi a rendere il film ancora più interessante di quello che è, perché è perfetto anche sul piano tecnico, vantando di una fotografia stellare, ovviamente anche quella formata da colori accesi e brillanti al servizio della narrazione, e l'aver trasformato i traumi psichici di Marni, il nome del personaggio femminile protagonista del film, in espedienti di tensione per un thriller che per struttura, in quanto contiene prove da superare, tra virgolette, per i protagonisti, ricorda i capolavori di spionaggio del celebre regista, su tutti, Intrigo Internazionale e il Club dei 39 Scalini. Noi non conosciamo il passato di Marni, ma ne subiamo insieme a lei gli effetti, i quali invece conosciamo molto bene, perché ci vengono riproposti più volte all'interno del film, che ci spaventano, prendendo forme che teniamo e prevediamo con paura, e saranno loro costantemente a interrompere bruscamente la bellissima storia d'amore che si crea piano piano. L'amore viene inteso come l'unica cosa che può spaccare e distruggere una situazione drammatica, ed è quindi commuovente e esplosivo il finale, proprio per questo. Noi teniamo a perdonare qualsiasi azione alla protagonista, ed empatizziamo per lei perché è il primo personaggio che ci viene presentato, perché capiamo la sua situazione drammatica e vogliamo conoscerla fino in fondo, cosa che però Hitchcock ci permette di fare solo nella conclusione. Forse il già citato finale oggi è un po' datato, ma è una potenza metaforica e non invidiabile, ed è stracitato in tutti i thriller moderni. È entrato nella storia del cinema il finale e anche il film, che si può considerare un classico assoluto.